è venerdì e quindi nuova puntata di best decks of the week questa settimana leggermente diversa perché giustamente il meta è appena stato stravolto da uno dei ban più belli che potessi sperare in questo ultimo periodo come possiamo vedere da qui l'urrus se ne ha dato e non ritorna più per fortuna e speriamo anche e quindi è difficile andare a listare quali siano i migliori mazzi del formato ci soffermeremo molto sul modern in questo periodo perché è il formato su cui ho più certezze e quindi preferisco parlare di questo quindi oggi concentriamoci su quello in particolare allora andiamo a vedere un po come ha smosso la situazione il fatto che il gatto più odiato dopo coltron familiare in standard sia sparito dal modern ecco qua potentissimi mezzi forniti forniti ci da powerpoint quali sono i mazzi che hanno perso l'urrus quindi andiamo a vedere quali sono quelle strategie che dovranno fare a meno del loro compenio leggermente leggermente sbilanciato allora lo ricorderanno con affetto grixis dead shadow hammer time crack the earth john de sagaman o bg rock diciamo in generale quei tipi di mazzi hardness gates burn oppure i vari prowess deck insomma una buona fetta di meta si vede lasciata abbandonata da questo ban ma veramente abbandonata la domanda è quella ci sono dei mazzi che si possono andare a riprendere dei mazzi che invece ormai hanno dato tutto non si possono più recuperare senza il gatto con lifelink secondo me ci sono vari punti di vista dipendentemente dai mazzi dato che il power level delle carte anche pre l'urrus era sicuramente sicuramente invidiabile quindi partiamo da grixis dead shadow eccolo qua vediamo un po' grixis dead shadow può riprendersi da questo ban allora ci sono un po' di cose da tenere in considerazione ad esempio possiamo tornare a giocare street break che era un pochino la gitaxian probe della delle liste pre l'urrus abbiamo una carta che ci fa pompare di due dead shadow e ci fa pescare ci fa pescare al buio con il setup di peschini che abbiamo in questo momento ma grixis non ha mai giocato serum vision quindi era comunque solamente un giocare con 56 carte e avere una carta che comunque va bene con il nostro game plan ci può costare possiamo rimetterla è stata sbannata in questo mazzo e quindi quel drop a 5 che in realtà è un drop a 0 perché se cicla e si pesca tornerà presentissimo nelle liste poi possiamo parlare di una aggiunta interessante perché il grande escluso delle liste di dead shadow era chiaramente murktide perché per fare spazio all'urrus dovevamo tagliare tutto quello che costasse sopra il 3 e anche se lo pagate 2 sopra il 2 scusate e anche se lo pagate 2 mi spiace dirvelo in realtà costa 7 quel dragone quindi avere la possibilità di giocare come ur murktide darsi più più appunto murktide credo che possa essere interessante anche per una shell come dead shadow col blu che sia la versione grixis no non è vero solo grixis perché darsi solo grixis grixis può giocare murktide ci sta mi sembra un'ottima aggiunta al mazzo non attica tempo tanta roba andremo chiaramente a cambiare la curva dei nostri delle nostre interazioni magari tagliando qualche drown in the lock e cercando di capire come si può fare proprio per questa aggiunta ma anche non solo per quella si può tornare a parlare dell'argomentazione temur battle rage versus murktide versus dress down tra l'altro io spero di aver scritto tutto bene su questa mega presentazione perché lo sto registrando comunque dress down carta che scomba con grixis dead shadow ma lo stesso faceva in realtà temur battle rage che ci permetteva di dare double strike sembra una carta bannata ma in realtà esiste ancora ci permetteva di dare double strike e trampola una creatura con forza 4 o più era un usava la meccanica ferocia di cans of turkey insomma una un'espansione quasi dimenticata comunque si può decidere di tornare a giocare questo split perché adres down sopra temur battle rage perché adres down ci permetterà di dare double strike al nostro drago e scusatemi tbr ci darà la possibilità di giocare di dare double strike al nostro drago che già è imparabile quindi sarebbe un'ottima cosa poterlo fare mentre dress down però ci dà la possibilità di poterlo giocare a fine turno non sprecando mano nel nostro e poter attaccare con un 13 13 dall'altra parte se facciamo dress down a fine turno non potremmo fare murktide perché entrerebbe senza segnalini insomma ci sono un po di considerazioni da andare a fare sicuramente dato che un mazzo che riprenderà un po diciamo auge perché è molto forte contro il tier 1 che adesso è murktide è amulet combo è molto forte è un buon combo che può giocare contro contro r murktide se giocassimo dress down perderemmo degli out contro quel mazzo quindi ci sono un po di valutazione da fare su come si andrà a settare il meta però poter riandare a giocare tbr a me onestamente non dispiace anche perché si può giocare anche in versioni alternative del mazzo come ad esempio mardu shadow june the shadow come si giocava già e principalmente queste due june shadow la conosciamo tutti è un mix di carte con and control diciamo che si può permettere di giocare sia darsi che ragavan che goif quindi un numero di creature abbastanza importante tra l'altro starebbero tutte sotto il 2 potremmo anche giocare l'urrus ma è bannato quindi toglietevelo dalla testa mentre la nuova versione che è uscita con rosso di shadow shadow u è la versione di mardo obosh in realtà non è nuovissima si giocava già a mardo shadow non si è mai approfittato particolarmente di obosh perché c'erano altre scelpe interessanti comunque mardo poteva permettersi di giocare tranquillamente l'urrus che ripeto non era sbilanciato un pelino di più si sta vedendo qualcosina vi lascerò un link in descrizione perché ci sono qualche c'è qualche lista interessante cos'è la cosa figa di mardo che abbiamo il bianco per poter giocare prismatic ending che può togliere calice che può togliere blocchi fastidiosi e possiamo permetterci di giocare ranger captain o vios quindi niente male ragavan è nei colori tanto quanto darsi quindi bolla è ancora un trick interessante per questo mazzo un'altra versione molto bella di shadow che già si giocava prima in realtà perché riusciva a battere la versione grixis è la versione di mir con l'aggiunta di kaito shizuki anche senza di lui il mazzo era interessante perché aveva la possibilità di giocare quattro droni dell'occhio e quattro counter spell 3 barra 4 arch magischia quindi la scelera molto più controllosa rispetto alla versione grixis che poteva permettersi quattro counter main deck avevamo comunque l'accesso a dress down non avevamo l'accesso all'urrus e a ragavan che è la carta più forte del formato la cattura forte del formato sicuramente anche se probabilmente era più stupida beh se non la scimmia ci sta e drc quindi tagliamo il rosso come lo tagliavamo prima per poter accedere a kaito shizuki nuova carta molto interessante che fa un po il verso a the royal sion che si può giocare nella versione grixis ora perché è un drop a 3 quindi è stato sbannato kaito ci permette di fare vantaggio carte con la sua abilità di pesco scarto tra l'altro possiamo anche giostrarcela bene perché avendo murktide delve possiamo decidere di fare pesco scarto prima della combat o solamente pesco dopo la combat se abbiamo attaccato con una creatura e ci permette di fare dei pezzi in realtà è più l'abilità pesco scarto che ci fa simpatia la sua finisher che non arriverà mai se dovesse arrivare ci fa comunque mettere in campo delle shadow gratis o delle street rate o degli snap caster che sono una nuova aggiunta al mazzo un nuovo ritorno al mazzo una shell così che si può permettere di giocare anche leggermente più mid range con delle creature di questo tipo carta molto bella snap caster ci piace poi vediamo lo secondo un po di mazzi insieme ammertime ammertime si può permettere di giocare caldra complete nel stelsea nettle sist c'è urza saga nel nelle 75 quindi insomma non mi sembra che sia proprio un mazzo che soffra particolarmente l'assenza di lurus anche perché diciamo che era di più rispetto a quello che era il game plan originale del mazzo originale o diciamo primario del mazzo ecco così mi sembra più corretto abbiamo la possibilità comunque di uccidere i nostri avversari di secondo l'avremmo avuta anche con lurus non cambia assolutamente nulla cosa abbiamo in aggiunta abbiamo in aggiunta che stoneforge millistic ha dei target più interessanti i primi due che mi sono venuti in mente sono appunto caldra complete e nettle sist ma possiamo annoverare tra le varie possibilità minchia ragazzi come parlo le spade spada di fuoco e ghiaccio molto forte se murk tide effettivamente rimane e sta stabile come tier 1 possiamo prenderci anche spada rosso bianca se ci sono tante solitude insomma spade col bianco non mi fanno proprio impazzire se devo essere onesto però possiamo anche andare a giocare quello inoltre diciamo che c'erano già delle liste di crusher bot bg credo che si chiama il player vi metterò il link in descrizione del suo canale twitter se lo trovo perché devo andare a cercarlo quindi forse troverete il suo canale twitter un player che già giocava senza lurus ha sempre giocato senza lurus il mazzo già esisteva e il boost gli era stato dato da urzasaga certo lurus era molto comodo ma si parlava di una percentuale di partite abbastanza ridotte per cui si potesse andare a vincere con lui certo andando in late game ci stava era un'ottima aggiunta lurus è un'ottima carta cioè inutile dirci diversamente da questa cosa però secondo me il mazzo non soffre particolarmente si può continuare a giocare tranquillamente anche perché la versione uv si può permettere di giocare quel mostro di carta che è di reality chip e quindi siamo serenissimi crack di earth questo è più per il meme nel senso che è un mazzo che io non ho mai considerato pazzesco ma vedo che mengu ci fa un sacco di risultati lo gioca tantissimo quindi suppongo che effettivamente sia io ad avere una versione un po strana della cosa volendolo andare ad analizzare perde lurus sul mio canale potete trovare un video una serie di video fatto insieme al buon marco folloni su un mazzo molto simile che non giocava lurus per giocare showdown of the skulls quindi insomma c'era già una versione pre lurus uscita tra l'altro è uscita tipo una settimana prima della della challenge vinta da crack di earth quindi siamo stati precursori dei tempi comunque tolto questo possiamo andare ad aggiungere delle carte che sono in strategia con il nostro mazzo senza problemi alla main deck possiamo aggiungere blood moon possiamo aggiungere season and piromancer e possiamo giocare addirittura fury che insomma non mi sembra affatto male tutte cose che noi già facevamo prima che ci fosse questo hype tolto lurus però vabbè non prendiamoci meriti diciamo che siamo stati molto bravi anzi marco è stato molto bravo a leggere il meta se la strategia rimane diciamo land denial blood moon è veramente pazzesco poi noi giocando quattro mana tight nella versione crack di earth abbiamo la possibilità di ciclarli nel momento in cui diventano inutili cioè dopo il terzo turno con season and piromancers facendo due token che sono sempre carini perciam bloccare tipo ragavan o qualsiasi cosa fury è chiaramente uno degli elementali più forti stampati in modern horizon 2 quindi non vedo perché levarsi la possibilità di avere questa carta che mi sembra veramente fortissima tra l'altro proprio mengu ha già giocato una lista con le fury non ancora le blood moon però posso capire un po che dia fastidio per le blood moon avendo ranger captain of yos però si può fare un po tutto buona aggiunta che mi ha sempre suggerito il nostro marco folloni nazionale è idesugu la saga di kamigawa che potrebbe dare essere game changing su questo mazzo facendolo passare a mardu cosa che secondo me si può fare senza troppi problemi essendo una brew si può lavorare tranquillamente poi abbiamo jun sagavan che secondo me è il mazzo che soffre più di tutti addirittura più di grixis dead shadow quest ban chiaramente jun come sagavan secondo me non lo vedremo più perché va a perdere un sacco di cose tipo avegli è sparito un motore per il late game che era l'urrus che rifaceva ad esempio mishers bubble con drc che in un mazzo senza il blu e senza expressive iteration insomma non è che faccia proprio tantissimo vantaggio carte abbiamo una gestione molto più complessa delle risorse perché dobbiamo stare molto più attenti cioè non possiamo più riprendere dal cimitero banalmente quindi diventa proprio complicato torna a essere complicato a gestire le risorse di john che non è mai stata una cosa facilissima e soprattutto non è mai stata una cosa solo dipendente da noi mentre prima potevamo dire ok prendo un removal chi se ne frega va bene sono contento lo rifaccio adesso non possiamo più dirlo il nostro hop in realtà ha un potere decisionale su di noi fortissimo jun è un mazzo che soffre abbastanza i top deck forti perché in questo momento del meta purtroppo non ha più il top deck più forte del formato e le interazioni o particolari o strane o le interazioni come sono ad esempio le fiori cioè a costo zero è vero che fanno uno scarto praticamente in manaloppo ma non è che siano proprio fantastiche da prendere quindi poi saga non potremo più giocarlo perché siamo diventati un mazzo molto man intensive andando a reinserire delle carte con dei doppi costi che siano doppio nero verde nero verde rosso insomma a scelta e non possiamo più avere quel motore di diciamo popolazione del board che erano i token di urza saga mi spiace molto perché secondo me jun sagavan era un mazzo divertente se posso dire la mia non oppressivo che aveva delle belle linee di gioco con anche sagavan al suo interno secondo me è proprio il un dei mazzi che ha perso il maggior divertimento diciamo da da questo ban mi spiace molto si tornerà quindi alle vecchie build un po le build di boomer jund che ormai è solo jund l'unico jund o alternativamente chiamato ho speso un sacco di soldi tu mi uccidi con un mazzo da 20 euro perché noi soffriamo tantissimo i mazzi rogue ricordiamo sempre questa cosa quindi la domanda che sorge sempre quando si parla di jund il mazzo è più romantico più performante cioè abbiamo delle carte molto forte abbiamo bloodbraid elf abbiamo clotis terrestra che rendurance tutte carte che possiamo giocare ricordiamoci sempre goyf rennesix ragavan idesugu liliana grist un sacco di carte fortissime che però non riescono mai a quadrare benissimo tutte insieme è molto complicata trovare una shell una build che faccia girare tutto anche perché ad esempio già mi sono scordato tourac che puoi dire la sua ce ne sono veramente tante la scelta è complicatissima trovare il buon mix tra removal e value card non è facile soprattutto adesso che il value non lo fa più jund rispetto a tutti gli altri mazzi ma ci sono delle liste che ti surclassano tipo 4c control ti va troppo sopra poi abbiamo lo sbanno ufficiale di questo mazzo perché abbiamo la possibilità di tornare a giocare season e piromancer che credo che sia una delle carte che rivedremo di più liliana del velo ma soprattutto grist che è il vero planes walker a3 che tutti i giocatori di jund avrebbero voluto giocare ma non potevano e bloodbraid elf che può cascare tutto il mazzo praticamente il problema di bloodbraid elf è quando casca ad esempio un fatal push su world vuoto o un vale of summer quando non abbiamo fatto niente il nostro avversario non ha fatto niente insomma non bellissimo ecco la prima non si può più contare su delirium che è una cosa molto importante allora delirio era molto forte perché i 3 3 avere jund con i delver non si è mai visto con darsi potevamo permetterci di giocare jund con i delver più belli e pescare mentre non ci serviva farlo girare dal top insomma darsi è chiaramente delver meglio ok era nei nostri colori potevamo giocarlo ci faceva vantaggio carte dava un clock al nostro avversario passando sopra la testa delle sue creature era una figata ora non possiamo più avere a no lead quindi se i danni non li faremo più ad esempio a un titano arriva titano e noi non abbiamo removal perché i removal storici di jund sono lightning bolt e fatal push possiamo giocare un assassin's trophy non mi sembra una figata pazzesca però possiamo possiamo andare a giocare go for the throat possiamo giocare tutti i counter a 2 del mondo il problema è che sono counter a 2 e noi come mana ripeto siamo molto mana intensive quindi ci cambierà tantissimo le fecciate e tantissimo la curva con cui giocheremo dovremmo stare indietro potremmo fare il nostro goif dovremmo per decidere di non fare liliana o non fare grist però così li lasciamo in campo di riade ma becchiamo titano se la facciamo insomma non è proprio una festa non è mai stata una festa giocare giund in questo momento secondo me è molto più complicato ma c'è da dire che come tutti i mazzi romantici se riusciamo a incastrare le giocate ci sentiamo esaltate come era sono veramente euforico ecco esatto anche il tormentone dell'internet da boomer l'abbiamo detto passiamo oltre aradine scales e botti li mettiamo nella stessa categoria ci aggiungo anche mill che non ho scritto ma ci sprecherò due parole sopra allora arden and scales burn e mill sono tre mazzi che per pur perdendo l'urrus non perdono un po come a mer time ma diciamo che sono meno interessanti dal mio punto di vista perché non hanno grosse innovazioni un po come a mer time quindi non perdono chissà che cosa perché se parliamo in particolare di anche qua un altro errore mai stato vabbè fa niente non dovrei farvi rivedere un altro arden and scales è un mazzo che non è mai stato l'urrus dipendente che aveva accesso a una carta molto forte effettivamente mister seri che credo il giocatore più esperto del formato quanto meno su twitter ed mtg o del formato del mazzo si era ricordato di poter mettere l'urrus solo quando gli era stato fatto notare perché effettivamente non non è proprio impattante a livello della meccanica del mazzo possiamo continuare a giocarlo tranquillamente senza anche perché ci è arrivato da kamigawa neon dynasty patchwork automaton quel bel artefatto non capisco un po è un costrutto quindi ci va bene che con world 2 diventa un po problematico da andare a targhettare e inoltre tutte le volte che tiriamo una spell artefatto quindi tutte le volte non una volta per turno tutte le volte che abbiamo una spell artefatto prende un segnalino con arden e scales 2 chiaramente quindi mi sembra proprio un bel messirino da andare a giocare poi anche qui come in ammertime appunto abbiamo urza saga che rimane una delle carte migliori del modern secondo me anche come livello di gioco a me piace veramente tanto non mi piace prenderla cioè nel senso quando me la fanno non sono proprio contentissimo però è una bella carta cioè c'è poco da dire ha molto forte a me piace giocarla botti a botti l'urrus dava un late game più importante diciamo per il mazzo ma non era essenziale il late game perché botti non vuole arrivarci cioè è molto molto semplice in realtà non si stava giocando più tanti cioè molto sceso in meta adesso col cambio di col meta shift chiaramente lo rivedremo un po di più perché in questi momenti che risale l'hype ai giocatori di botti quando tutti gli altri stanno pensando a cosa giocare loro smettono di pensare no però a parte gli scherzi in realtà è il suo momento del meta chiaramente l'urrus gli dava una spinta in più ma non era essenziale poi secondo me a idolo non stava neanche simpaticissimo però no a parte gli scherzi era una creatura a costo 3 1 3 2 è difficile che rifacesse era difficile che rifacesse più di una monastery swift spear prima di prendere un remover un drop a 1 quindi niente di interessante e idolo non era mai riportato dal cimitero quindi si stavano un po antipatici il game plan rimane invariato bene o male quindi non andiamo a toccare niente di questo mazzo abbiamo di nuovo uno slot di side disponibile tanto troppa 3 comunque non ne giochiamo possiamo andare tranquillamente avanti così anzi possiamo riprendere a giocare rest in piscale prima magari ci facevamo degli scrupoli inutili quindi va bene così su bill è un po lo stesso discorso di burn il mazzo è settato allo stesso modo come si giocava prima si potrà giocare anche adesso abbiamo 8 granchi che sono la parte forte del mazzo ci potremmo permettere di andare a giocare i ponti intrappolanti di side se mai dovessero servirci non lo so probabilmente in realtà perde un po di più rispetto agli altri perché comunque era un mazzo che tendeva anche a voler settare delle partite per andare in late game rispetto a burn e hard and scales ma non è proprio la carta più rilevante non gli hanno bannato i drone crab quindi il mazzo esiste tranquillamente allo stesso modo le trappole esistono tranquillamente allo stesso modo potrete continuare a mettere ansia per le fece degli avversari senza problemi quindi non vi preoccupate millatori seriali chi ci ha guadagnato però perché abbiamo parlato solamente di chi ci ha perso ma effettivamente c'è stato qualcuno che ci ha guadagnato ad esempio ur murk tire che ad occhio e croce è il nuovo tier 1 indiscusso del formato tanto quanto il nuovo un companion più forte sulla piazza e orion the sky no no senza the orion sky nomad super mega flicker wisp che ci permetterà di giocare 95 di 95 carte costosissime di puro value senza preoccuparci più di dover fare il paragone con il gattino che protegge il suo cucciolo il deck building in formato ne guadagna sicuramente perché sì prima c'era una sorta di deck building che era io gioco un lurus deck e quindi non deck build perché le liste sono chiuse le liste sono risolte abbiamo spazio per una due carte su 75 oppure c'era la versione io gioco un mazzo che ammazza il lurus deck quindi main deck 60 carte le dedico a quelle 15 decide decido che o continuo a ammazzare più pesantemente i grixis vari che ci sono o mi do ad altri mazzi che in realtà poi era main deck uccido grixis quanto meno line era così main deck uccido grixis decide uccido hammer time questa era la sostanza tengo una decina di carte per sistemare i vari match up ok non era un bel deck building secondo me quando il formato è un mazzo e tutti gli altri che giocano contro o comunque un tipo di mazzo era che tutti gli altri che giocano conto fa proprio schifo quindi sono contento che sia cambiato in questo momento c'è chiaramente un mega paciugone del deck building incredibile pazzesco brainstorming anch'io ci ho provato mi è uscita una schifezza di insultare del shadow però magari lo porterò avanti perché comunque questo deck building che si viene a formare però sarà molto interessante si spera chi ci ha guadagnato di nuovo sono i mazzi contro perché perché l'urrus era molto fastidioso nel poter reiterare continuamente le risorse quindi noi dovevamo gestire le prime risorse del nostro avversario con i nostri counter spell e con i nostri removal se non trovavamo ad esempio un quella spell di innistrad memory dell'agio per rifarci la mano eravamo morti perché non potevamo rispondere nuovamente magari all'urrus che rifaceva una minaccia e noi poi dovevamo decidere se gestire l'urrus o la minaccia con la carta che trovavamo o magari pescavamo counter e stavamo malissimo quindi secondo me i control deck ci hanno guadagnato detto che se ti chiami guilherme wafo tapa fai 10-0 con uv control in challenge vincendola pure coi grixis deck coi contro coi l'urrus deck qua il turno insomma parlando per i comuni mortali secondo me lì i control deck ci hanno guadagnato poi ci hanno guadagnato in particolare due carte che sono expressive iteration carte non creatura expressive iteration che si conferma la carta più forte del formato la diciamo la monocarta più forte del formato non viene toccata war e murtet continua a giocarla in quattro per grixis shadow si gioca anche per quel motivo è semplicemente troppo forte quindi lei ci ha guadagnato in realtà ci ha guadagnato soltanto perché verrà confermata come carta prima c'era la possibilità che non fosse la carta più forte del formato perché ad esempio si poteva parlare qualcuno accennava a drowning the lock come miglior carta perché faceva aveva quel doppio modo di scelta adesso ci siamo tolti il dubbio expressive iteration rimane la carta diciamo confermata al miglior carta del formato e poi che ci ha guadagnato questo ban efimerate più moderno raison 2 gli elementari di moderno raison 2 cosa ci ha guadagnato ci ha guadagnato il fatto di dire ok se non mi hanno toccato in un ban a sorpresa posso essere abbastanza sereno perché perché questo ban ha portato alla luce il fatto che secondo me il team di sviluppo o chi si occupa dei ban quindi non vorrei dire non mi a caso ha una visione leggermente miope della situazione del gioco noi andiamo a bannare una carta non una meccanica sbagliata lasciando a piede libero i orion ad esempio o gli altri companion che vabbè però l'ultrino non credo che sarà mai un problema però non si sa mai e non andiamo a toccare nient'altro di quello che diventerà effettivamente problematico cioè le liste di 4c elementali piuttosto che 4c di orion con blink per la combo di time warp se ancora si giocano esper animator bv grief che è un mazzo che a me non piace da come diciamo play style ma è un mazzo non ci si può fare niente approfittano della situazione di non aver più addosso un mazzo come dirixis del shadow che poteva portare poteva portarsi vantaggio dai diciamo dallo dalla scarto una carta per fare un esilio una carta per farmi un grife meno effimero quindi sottissimo di carte e shadow poteva punirlo con un con uno scartino più una buona pressione perché adesso questo svantaggio carte punito difficilmente lo andremo a punire come ho detto punito un po troppo di volte però avete capito difficilmente verrà preso punito ok lo dico ancora come prima effimerate più le carte di madonna 2 quindi ufficialmente secondo me non ha più sfighe andare a giocarle io le giocherei sempre prima avevo paura dello svantaggio carte ora che abbiamo tolto dal formato il mazzo che mi fa svantaggio carte in mano e intanto riesce a avere dei counter della pressione perché comunque crisis the shadow verrà ancora giocato ma verrà giocato secondo me molto meno e ci abbiamo guadagnato di brutto noi elementali quindi io sono abbastanza contento e sicuro che questa cosa verrà giocata parliamo anche di guadagni e non guadagni perdite economiche chi ha fatto stonks? ha fatto stonks il nostro seasoned piromancer che è una carta che crea dell'hype incredibile in tutti in realtà è una carta che piace moltissimo anche a me quello che vedete adesso è il grafico relativo alla curva in salita incredibile che ha avuto su MTGO in questi giorni è arrivato a 40 tics passando da 20 in un giorno uno circa 40 su su cartaceo siamo arrivati a 35 euro ed è in salita ha avuto delle punte più alte durante l'inizio dell'anno ma era sceso tantissimo durante il periodo death shadow ora che basta vedere andare qui a vedere la punta dal 9 al 10 di marzo poi si stabilizzerà secondo me intorno ai 35 euro più o meno adesso nel suo prezzo tantissimo per quella figurina però ci ha guadagnato parecchio quindi ragazzi se avete deciso del piromancer è il vostro momento di splendere che io non ci ha guadagnato chiaramente bolla di miscera che ha avuto un calo drammatico su MTGO possiamo vedere qua da 40 tics a una ventina circa sta scendendo c'è una leggera punta di risalita credo più perché abbiamo avuto una fortissima un fortissimo calo di vendite quindi magari chi le cercava per legacy o perché gli mancavano da giocare in where and work time l'è andata a comprare quindi è quel punto lì ma direi che stiamo calando forti anche in real c'è un calo abbastanza importante è stabilizzato più o meno sui 7 euro variamo dai 7 agli 8 euro al 10 marzo secondo me si pianterà lì cioè 7 euro credo che sia il suo prezzo tantissimo per miscera sbaboli mi ricordo quando si compravano a 2 euro poi è arrivato tasigur e da lì sono state solo 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 schiaffi e salite però se siamo passati dal real dai 11 12 euro un set a 40 50 euro si poteva trovare a un set a 20 euro 20 30 massimo bel calo quindi se non le avete ancora vendute secondo me tenetele per un attimo poi parlando delle spice list della settimana in chiusura perché giustamente best decks of the week non posso lasciarvi senza briu andiamo a vedere un po di cose interessanti parlavamo di deck building quindi non possiamo fare a meno di nominare paulus non so come si pronunci ma paulus mi piace uno degli streamer più attivi della community modern europea e su twitch quindi in realtà mondiale ma lui è spagnolo credo che sia un conosciutissimo giocatore di amulet che come ha visto hidegutsu consume soul ha deciso di montare una lista grixis che è stata poi portata in auge questa settimana da aspiring spy che loro due si parlano molto da quello che si vede sui social e ve la proporrò poi link in descrizione vi lascio il twitter dove potete trovare i post con le liste qui sotto per farvi vedere lista controllosissimissimissima che gioca un solo troppo a uno che è ragavan per lasciarlo e stare fuori d'etsugu ma per il resto insomma è proprio una roba pacchetti potrei jace 200 removal delle fiori una roba mamma mia deve piacervi guardare l'avversario in faccia e decidere che lui sta morendo dentro poi tameshi combo dei fate less brewing podcast che è una pagina di instagram io l'ho conosciuto grazie al buon mattia che saluto e ringrazio e mi ha passato questa lista dicendo che è un mazzo che poteva interessarmi effettivamente un mazzo che mi interessa devo ancora cercare di capire quando potrò giocarlo ma sicuramente una serie di video ce la farò pur perdendo dei soldi combo interessantissimo che scomba con cultivator colossus e walking ballista o finale of devastation o greco accennò già dette tre pazzesche una roba incredibile date a vederlo pieno di uno per vi lascio anche lui di lui il link in descrizione forse devo togliere ma fa niente e molto 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 interessante per gli appassionati di combo ultima lista ne ho parlato leggermente prima cioè leggermente un po di tempo fa nella slide dedicata a grixis lasciato micchia quanto sono boomer a dire slide vabbè fa niente mardus shadow di ansparricks bike in realtà non so se è lui che ha montato il mazzo ma è lui che l'ha giocato e di cui ho visto il suo twitter twitter vi lascio in descrizione anche quello abbiamo deciso in questa lista che i nostri murtide sono neri costano 1 e sono dei 5 5 a sono delle rane non dei draghi vabbè si chiamano gorma gangler torniamo un po a essere un po del vintage del magic nelle prime shell di death shadow e anche qui devo fare accenno al buon marco folloni che mi ha detto guarda che nelle liste col nero si giocherà di nuovo gorma gangler effettivamente un costo 1 non è affatto male rispetto a un costo 2 non ci avevo ragionato particolarmente bene 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 questo è tutto puntata un po più breve del solito ma credo spero che vi sia piaciuta fatemi sapere nei commenti voi se vi siete dati alle briù di qualcosa in particolare oppure anche voi aspettate che esca un mazzo pazzesco ciao a tutti buon weekend